quattordici ho gettato un grido dalla sorpresa cosa c'è cosa c'è ha chiesto polina in un certo tono strano era pallida in viso e aveva lo sguardo torbido come cosa c'è lei qui in camera mia se vengo vengo tutta tale è la mia abitudine del resto lo vedrà subito accenda una candela ho acceso la candela polina si è alzata si è accostata al tavolo e mi ha messo sotto gli occhi una lettera disuggellata legga ha ordinato ma questa questa è la calligrafia di de griot ho gridato io afferrando la lettera le mani mi tremavano e le righe mi ballavano davanti agli occhi ho dimenticato le espressioni precise ma comunque ecco qui la lettera se non parola per parola almeno nel contenuto mademoiselle scriveva de griot delle fortunate circostanze mi obbligano a partire immediatamente lei stessa avrà naturalmente notato che io a bella posta evitato una spiegazione definitiva con lei finché non si fossero chiarite tutte le circostanze l'arrivo della vecchia della vieille dame sua parente e il suo assurdo comportamento hanno posto fine a tutte le mie esitazioni i miei propri affari gravemente dissestati mi impediscono definitivamente di continuare a nutrire le dolci speranze da cui per un certo tempo mi sono lasciato inebriare rimpiango il passato ma oso sperare che lei non troverà nella mia condotta nulla che sia indegno di un gentil uomo e di una persona onesta gentil home e onet home avendo speso quasi tutto il mio denaro per pagare i debiti del suo patrigno mi trovo nell'assoluta necessità di servirmi di ciò che mi resta e così ho dato incarico a dei miei amici di pietroburgo di provvedere immediatamente alla vendita dei beni presso di me ipotecati sapendo tuttavia che il suo irresponsabile patrigno ha dilapidato anche il denaro che apparteneva a lei ho deciso di condonargli 50.000 franchi e gli restituisco una parte delle ipoteche sulla sua proprietà corrispondente a questa somma cosicché lei ha adesso la possibilità di riavere tutto quel che ha perduto esigendo da lui la sua proprietà per via legale spero mademoiselle che dato lo stato attuale delle cose la mia iniziativa possa risultare per lei molto vantaggiosa con questo mio atto spero anche di compiere fino in fondo il mio dovere di gentil uomo e uomo d'onore sia pur certo che il suo ricordo rimarrà per sempre impresso nel mio cuore ebbene è tutto chiaro ho detto io rivolto a polina possibile che lei si aspettasse da lui qualcosa di diverso ho aggiunto con sdegno non mi aspettavo nulla ha risposto lei in apparenza tranquilla ma con un certo tremito della voce da un pezzo avevo preso una decisione leggevo nei suoi pensieri e sapevo cosa pensava lui pensava che io cercassi che avrei insistito a questo punto polina si è interrotta e senza concludere la frase si è morsa le labbra ed è rimasta in silenzio per un po a bella posta ho raddoppiato le mie manifestazioni di disprezzo ha ripreso quindi a dire e sono stata a vedere cosa avrebbe fatto se fosse arrivato il telegramma che ci annunciava l'eredità gli avrei sbattuto in faccia i soldi che gli doveva quell'idiota il patrigno e l'avrei cacciato via da un pezzo mi era odioso o prima lui era una persona completamente diversa mille volte diversa ma ora ora con quale felicità ora gli sbatterei quei 50.000 franchi sulla sua faccia di mascalzone e ci aggiungerei anche uno sputo e glielo spalmerei bene sulla faccia ma quella carta l'ipoteca da 50.000 franchi che lui ha restituito deve averla il generale la prenda e la restituisca a de griot questo no questo no già è vero questo non si può fare chissà cosa sarebbe capace di fare il generale e la nonna ho esclamato a un tratto polina mi ha gettato un'occhiata tra distratta e impaziente ma che c'entra la nonna ha esclamato con dispetto non posso mica andare da lei e poi io non voglio chiedere perdono a nessuno ha aggiunto in tono irritato che fare allora ho esclamato e come come lei ha potuto amare quel de griot che carogna se lei vuole io lo ucciderò in duello dove si trova adesso a francoforte e ci rimarrà per tre giorni mi dica solo una parola e io ci andrò domani col primo treno ho esclamato io in preda a una sciocca esaltazione polina si è messa a ridere già e lui magari dirà prima però restituitemi i miei cinquantamila franchi e perché poi dovrebbe battersi che sciocchezza e allora dove dove mai prenderli questi cinquantamila franchi ripetevo io digrignando i denti e guardandomi attorno come se da un momento all'altro si potessero trovare lì per terra senta e mister astley ho chiesto rivolgendomi a polina mentre una strana idea mi si faceva strada in testa gli occhi di polina hanno avuto un lampo come possibile che proprio tu mi chieda di lasciarti per andare da quell'inglese ha esclamato fissandomi in viso con uno sguardo penetrante e un sorriso amaro sulle labbra era la prima volta in vita sua che mi dava del tu mi sembrava che in quell'istante le girasse la testa dall'agitazione e a un tratto si è abbandonata sul divano estenuata sono rimasto di sasso come fulminato senza credere ai miei occhi né alle mie orecchie dunque lei mi amava era venuta da me invece di andare da mister astley lei una fanciulla era venuta sola nella mia stanza in albergo e quindi si era compromessa davanti a tutti e io stavo lì davanti a lei e ancora non avevo capito niente un'idea folle mi ha attraversato la mente polina dammi soltanto un'ora aspettami qui soltanto un'ora e io tornerò questo è indispensabile vedrai resta qui resta qui e sono uscito di corsa dalla stanza senza rispondere alla sua occhiata interrogativa lei mi ha gridato dietro qualcosa ma io non mi sono voltato già qualche volta l'idea più folle l'idea apparentemente più assurda ti si fissa e radica in testa così profondamente che alla fine involontariamente l'accetti come qualcosa di effettivamente realizzabile non solo ma se questa idea si fonde con un qualche desiderio forte e appassionato puoi addirittura finire per accettarla come qualcosa di fatale di necessario e predestinato come qualcosa insomma che non può fare a meno di accadere realmente può darsi che ci sia di mezzo ancora qualcos'altro una certa combinazione di presentimenti uno sforzo straordinario della volontà una specie di intossicazione prodotta dalla nostra stessa fantasia o ancora qualcos'altro che non saprei dire ma quella sera una sera che io non dimenticherò mai più per tutta la mia vita mi accadeva davvero qualcosa di prodigioso qualcosa che sebbene sia perfettamente spiegabile in base all'aritmetica ciò non di meno mi appare prodigioso ancora oggi e come mai come mai quella certezza mi si era così saldamente e profondamente radicata dentro e da tanto tempo ormai certo io ci pensavo lo ripeto non come un'eventualità che può anche verificarsi alla pari di tante altre e quindi che può anche non verificarsi ma come qualcosa che non può fare assolutamente a meno di accadere erano le dieci e un quarto e io entravo nel casino animato da una speranza così salda e allo stesso tempo in preda una tale esaltazione quale ancora non avevo mai provato nelle sale da gioco c'era ancora parecchia gente anche se soltanto la metà che al mattino dopo le dieci nelle sale da gioco rimangono soltanto gli autentici e accaniti giocatori quelli per i quali nelle stazioni termali esiste soltanto la roulette e soltanto per quella ci sono venuti gente che quasi non si accorge di quel che succede intorno a loro e per tutta la stagione non si interessano a nient'altro non fanno che giocare dal mattino fino a notte e magari sarebbero anche pronti a giocare tutta la notte fino all'alba se soltanto fosse possibile quando a mezzanotte si chiude la roulette questa gente se ne va indispettita e quando il croupier capo prima della chiusura un po prima di mezzanotte annuncia le trois derniers cu monsieur questa gente è pronta certe volte a puntare di tre soli colpi tutto quel che si trova in tasca ed effettivamente è proprio allora che perdono di più sono andato direttamente al tavolo dove prima era seduta la nonna non c'era un grande affollamento tanto che ben presto ho trovato un posto in piedi accanto al tavolo proprio davanti a me sul panno verde stava scritto a lettere nere pass pass sta a indicare la serie di cifre dal 19 al 36 mentre invece si chiama monk la serie di cifre dall 1 al 18 ma a me che importava io non calcolavo non avevo neppure sentito quale numero fosse uscito per ultimo né l'avevo chiesto al momento di cominciare il gioco come avrebbe senza dubbio fatto qualsiasi giocatore che calcolasse almeno un po le probabilità ho tirato fuori tutti e venti i miei federici e li ho puntati sul pass lì davanti a me 22 ha gridato il croupier avevo vinto e di nuovo ho puntato tutto sia quello che già avevo da prima che quello che avevo vinto 31 ha gridato il croupier di nuovo avevo vinto in tutto quindi avevo già 80 federici ho messo tutti gli 80 federici sulle 12 cifre mediane si vince il triplo della puntata ma ci sono due probabilità contro una la pallina ha girato e si è fermata sul 24 il croupier mi ha pagato con tre rotoli di 50 federici più altre 10 monete d'oro sciolte dunque ora con le vincite precedenti mi trovavo padrone di 200 federici ero come preso dalla febbre e nell'eccitazione ho puntato tutto il mio mucchio di denaro sul rosso e improvvisamente sono tornato in me e soltanto in quel momento per tutta la serata e per tutta la durata del gioco ho sentito un brivido di terrore corrermi per la schiena mentre mi prendeva un tremito alle mani e ai piedi in un attimo mi sono reso conto con terrore cosa significava per me perdere insieme a quell'oro puntavo tutta la mia vita rouge ha gridato il croupier e io ho tirato un sospiro di sollievo mentre un formicolio di fuoco mi correva per tutto il corpo mi hanno pagato con biglietti di banca questa volta avevo allora in tutto 4000 fiorini e 80 federici ero ancora in grado di tenere il conto mi ricordo che poi ho puntato 2000 fiorini di nuovo sulla dozzina di mezzo e ho perduto poi ho puntato l'oro e gli 80 federici e ho perduto ancora allora mi ha preso una specie di furore e ho puntato sulla prima dozzina i 2000 fiorini rimasti così a casaccio senza stare a calcolare ricordo di aver vissuto un istante di attesa spasmodica simile forse a quello che deve aver provato madame blanchard quando a parigi precipitò dall'aerostato a terra 4 ha gridato il croupier e così in tutto con la posta precedente mi trovavo possessore di 6000 fiorini avevo ormai l'aria di un trionfatore non avevo più assolutamente paura di nulla e ho gettato 4000 fiorini sul nero una decina di persone si è affrettata a imitarmi puntando sul nero i croupier si scambiavano qualche parola e delle occhiate la gente lì intorno chiacchierava e stava a vedere è uscito il nero da questo punto non ricordo più né l'ordine delle puntate né il calcolo delle vincite ricordo soltanto come in sogno che avevo già vinto mi sembra 16.000 fiorini quando a un tratto con tre colpi sfortunati ne ho persi 12.000 allora ho messo gli ultimi 4000 sul pass ma in quel momento non sentivo ormai quasi più nulla puntavo e aspettavo meccanicamente senza pensare e ho vinto e poi ho vinto altre quattro volte di seguito ricordo soltanto che rastrellavo soldi a migliaia e anche che uscivano più di frequente di tutti i numeri della dozzina di mezzo a cui mi ero attaccato uscivano quasi regolarmente tre o quattro volte di seguito quasi immancabilmente poi si ecclissavano per un paio di volte per poi tornare a uscire per tre o quattro volte di fila una tale eccezionale regolarità si riscontra talora per certi periodi ed è proprio questo che fa perdere la bussola ai giocatori che fanno i loro calcoli con carta e matita in mano e quali terribili scherzi gioca qui talora il destino credo che non fosse passata nemmeno mezz'ora dal mio arrivo al tavolo da gioco quando a un tratto il croupier mi ha dichiarato che avevo già vinto 30.000 fiorini e che siccome il banco non poteva rispondere per una somma maggiore in una sola volta quella roulette si chiudeva fino al giorno dopo ho preso allora tutto il mio oro ficandomelo in tasca ho arraffato le banconote e sono subito passato a un altro tavolo in un'altra sala dove c'era l'altra roulette la folla mi si è precipitata dietro là mi è stato subito liberato un posto e subito mi sono rimesso a puntare a casaccio e senza calcolare come prima non capisco proprio cosa mi abbia salvato talora tuttavia mi venivano in mente certi calcoli e cominciavo a concentrarmi su certi numeri e certe probabilità ma ben presto abbandonavo i calcoli e riprendevo a puntare a casaccio quasi senza rendermi conto di quel che facevo evidentemente dovevo essere molto distratto già che ricordo che più volte i croupier hanno corretto il mio gioco ogni tanto infatti facevo degli errori grossolani mi si erano messi intorno ai soliti polacchi offrendomi i loro servigi ma io non davo retta nessuno la fortuna non mi abbandonava a un tratto ho sentito ridere e parlar forte lì intorno a me tutti gridavano bravo bravo e alcuni battevano le mani anche a quel tavolo avevo vinto trentamila fiorini e il banco era stato chiuso fino al giorno dopo se ne vada se ne vada mi ha sussurato a un certo punto una voce da destra era un ebreo di francoforte che per tutto il tempo mi era stato vicino e se non sbaglio qualche volta mi aveva aiutato nel gioco per amor di dio se ne vada mi ha bisbigliato un'altra voce accanto all'orecchio sinistro questa era una signora vestita modestamente ma molto decorosamente sulla trentina dal volto stanco e di un pallore malaticcio ma che anche adesso faceva intravedere la meravigliosa bellezza di un tempo in quel momento mi stavo riempiendo le tasche di biglietti spiegazzati e raccoglievo l'oro sparpagliato sul tavolo afferrato l'ultimo rotolo da 50 federici sono riuscito senza che nessuno se ne accorgesse a farlo scivolare in mano alla signora pallida mi era venuta improvvisamente una voglia terribile di farlo e ricordo che le sue dita magre e sottili mi hanno stretto con forza la mano in segno della più viva riconoscenza tutto ciò si è svolto in un istante raccolto tutto il mio denaro sono passato subito al tavolo del 30 e 40 al tavolo del 30 e 40 siede un pubblico aristocratico non è la roulette si gioca con le carte e il banco risponde fino a 100.000 talleri anche qui la massima puntata era di 4.000 fiorini non conoscevo affatto quel gioco e non sapevo nemmeno come si puntava fatta eccezione per il rosso e il nero che c'erano anche qui e ai quali mi sono subito attaccato tutto il casino si affollava intorno a me non ricordo se per tutto quel tempo ho pensato una sola volta a polina ricordo soltanto che provavo un piacere irresistibile ad arraffare e rastrellare i biglietti di banca che mi si ammucchiavano davanti era davvero come se il destino mi guidasse per mano questa volta come a farlo apposta si è verificata una circostanza che del resto si ripete abbastanza spesso nel gioco capita che il destino si accanisca per esempio sul rosso senza più abbandonarlo per 10 o 15 volte di seguito già due giorni prima avevo sentito dire che la settimana precedente il rosso era uscito 22 volte di seguito si trattava di un caso quasi inaudito alla roulette e ne raccontavano con meraviglia si capisce che in questi casi il rosso veniva ben presto abbandonato e già dopo una decina di volte nessuno più si azzardava puntare su di esso però nessun giocatore esperto punta nemmeno sul nero che è opposto al rosso già che un vero giocatore sa bene cosa vogliono dire certi scherzi del caso sembrerebbe evidente per esempio che dopo 16 volte che esce il rosso al diciassettesimo colpo debba immancabilmente uscire il nero e su questo appunto si gettano in folla i novellini raddoppiando e triplicando le puntate e perdono moltissimo invece io chissà per quale ghiribizzo avendo notato che il rosso era già uscito sette volte ho continuato a bella posta a puntare su di esso sono convinto che qui almeno per metà c'era di mezzo la mia vanagloria mi era venuta una gran voglia di sbalordire gli spettatori col gran rischio che correvo e del resto ricordo chiaramente che strana sensazione al di là di ogni sollecitazione della vanagloria mi sono sentito a un tratto totalmente dominato da una folle sete di rischio può darsi che l'animo dopo aver provato tante sensazioni non solo non se ne sazi ma al contrario ne ricavi un'eccitazione che lo spinga a esigerne sempre di nuove e di più forti fino a restarne definitivamente spossato e davvero non mento se vi dico che se il regolamento del gioco avesse permesso di puntare 50.000 fiorini in un colpo solo senza dubbio io li avrei puntati intorno a me tutti gridavano che era una follia che il rosso era già uscito 14 volte di seguito monsieur ha esclamato una voce accanto a me improvvisamente sono tornato in me come quella sera avevo già guadagnato 100.000 fiorini e a cosa mi serviva guadagnare ancora allora mi sono precipitato sulle banconote ficcando me le in tasca alla meglio senza contarle ho raccolto tutto il mio oro tutti i rotoli e sono uscito di corsa dal casino tutti ridevano al mio passaggio mentre attraversavo di corsa le sale da gioco guardando le mie tasche gonfie notando la mia andatura goffa per il peso dell'oro certo ne portavo addosso non meno di dieci chili varie mani si tendevano verso di me e io distribuivo oro a manciate quanto me ne stava in mano sulla porta mi hanno fermato due ebrei lei è coraggioso molto coraggioso mi hanno detto ma parta assolutamente domani mattina col primo treno altrimenti perderà tutto ma io non li ascoltavo il viale era così buio che non riuscivo nemmeno a vedere le mie mani e fino all'albergo c'era una mezza versta da percorrere io non avevo mai avuto paura né di ladri né di briganti nemmeno da piccolo e non ci pensavo neanche in quel momento del resto non ricordo a che cosa pensassi durante la strada non erano nemmeno pensieri ma piuttosto sensazioni provavo una specie di terribile gioia comunicatami dal sentimento del successo della vittoria del potere non so come esprimermi meglio ogni tanto mi balenava davanti l'immagine di pulina ricordavo bene che stavo andando da lei sapevo che tra un minuto le sarei stato accanto e le avrei raccontato tutto e fatto vedere ma in quel momento mi ricordavo appena di ciò che lei mi aveva detto poco prima e perché io ero andato a giocare e così tutte quelle recenti sensazioni che risalivano ad appena un'ora e mezza prima adesso mi apparivano ormai come cose passate da un pezzo invecchiate trasformate cose di cui non ci saremmo nemmeno più ricordati perché ormai tutto sarebbe ricominciato in maniera completamente nuova quando ormai ero arrivato quasi in fondo al viale a un tratto mi ha invaso la paura e se adesso mi ammazzassero e mi derubassero a ogni passo il mio spavento raddoppiava tanto che mi sono quasi messo a correre a un tratto in fondo al viale mi ha apparso